Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi oggi andremo avanti con il nostro Ammina Bilefight Oggi puntata molto particolare perché teoricamente dobbiamo continuare con il calciomercato Però nel bel mezzo abbiamo queste tre partite amichevoli contro Elche, Lecce e Salinitana Elche e Lecce che fanno anche rima Molto probabilmente oggi le vedremo tutte e tre Per poi aspettare i resoconti che dovrebbero arrivare di tutti i giocatori che stiamo continuando ad osservare Potenzialmente ragazzi oggi addirittura si potrebbe chiudere tutto il nostro calciomercato Vedremo un po' cosa andrà a succedere Come sempre ragazzi io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati E per continuare a supportarmi Anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità A seguirmi sulla pagina Instagram, a sostenere il canale tramite un abbonamento e ad una donazione Quindi ragazzi senza perdere tempo andiamo subito in campo ad affrontare la prima sfida di oggi contro l'Elche Ragazzi prima partita miglior formazione possibile almeno per quello che c'è al momento Ma alla fine ragazzi l'unico che dovrebbe essere rimpiazzato è Momolu con un nuovo attaccante Quindi direi che comunque la formazione è un'ottima formazione Trattandosi da amichevole estive vi mostrerò semplicemente i gol Quindi ragazzi tutto pronto, cerchiamo di iniziare con il piede giusto questa stagione Occhio Durambil, può preparare ad andare Durambil, Durambil è più veloce di tutti Durambil arriva in area Prova anche a calciare direttamente in porta Palla che rimane lì in qualche modo Durambil riesce a sbloccare il punteggio 1-0 semi in vantaggio Raga, l'Elche è una squadra fortissima Cioè fanno un pressing allucinante Arrivano prima su ogni pallone Hanno avuto più di una chance di passare in vantaggio Ma qua, grazie alla caparbietà di Durambil che fa quasi fallo Però evidentemente per l'arbitro non è così Riesce comunque a sbloccare la sfida 1-0, siamo in vantaggio Ok ragazzi, termine anche il primo tempo 1-0 all'intervallo per noi Devo dire, nonostante tutto Ottima partita Semplicemente per il fatto che siamo in vantaggio Perché poi non è che stiamo giocando in un modo così scintillante Cioè ragazzi, c'è Marino E' proprio da allargare per Durambil Che ha spazio Durambil fa la finta L'appoggio per Marino Che è rimasto in avanti Il tocco a cercare Wall Ancora per Marino Bellissimo il pallone Non ci credo, miracolo Palla che rimane lì E' Mbappé Può infillare il pallone in porta Come sempre Esulta allo stesso modo Mbappé Qua ragazzi, azione molto particolare Perché eravamo rimasti in avanti Da un calcio d'angolo Marino Che si ritrova Con la gran palla Qui per segnare 2-0 Arriva la gran parata del portiere E poi ragazzi Mbappé Bravissimo a mettere il pallone Dove non batteva il sole Praticamente E occhio Ulrich Momolu Momolu Può girarsi E andare col destro Momolu Di potenza e di cattiveria 3-0 Devo dire che nel secondo tempo Abbiamo giocato decisamente meglio Siamo stati molto più dominanti Molto più protagonisti E ok ragazzi Finisce qua la partita 3-0 per l'Arminia Bella vittoria Ci voleva Ottimo esordio Speriamo che possa essere di buon auspicio Comunque ragazzi Adesso possiamo avanzare Arriva l'offerta per Mbappé La parte del Francoforte Mbappé che diventa un 70% Uno ma è ancora troppo presto Per pensare di Andare a trattare per lui Ancora Troppo importante Si è visto già nella partita Contro l'Elce Che effettivamente ha già segnato Comunque Giustamente Al Bernabeu Per l'Ecce Armina e Bielefeld Ci mancherebbe altro E ragazzi Unica problematica Piccola piccola Che adesso c'è Momolu Particolarmente stanco Quindi un attaccante Mi servirebbe Purtroppo Abbiamo visto che Per quanto riguarda Gli attaccanti Bisognerà attendere Altri tre giorni Io attualmente So qualcosa So che questo tizio Costa 15 milioni Però ragazzi Noi i soldi ce li abbiamo Io vi ho detto Un colpo Grande grande Lo voglio fare Questo qua Delle statistiche Che io mi innamoro In tre secondi Secondo me Ci si può provare Fofanà pure Costa parecchio Pure sarebbe Una bella botta E infine ragazzi Ben Sekiri Che è peggio ancora 23 milioni Lui sarà troppo forte Sinceramente Comunque ragazzi Allora facciamo una cosa Facciamo una cosa Perché io Io voglio provarci Voglio fare un salvataggino E poi vi faccio vedere Che succede Perché ragazzi Io vi dico la verità Io sto tizio Sto con a te Secondo me Potrebbe nascere Una bella storiella Di innamorati Proviamo un attimo A vedere Di sondare il terreno Non abbiamo abbastanza Informazioni Ma in realtà Sì sappiamo Quanto costa Il problema è che Non sappiamo Quanto bisognerebbe Chiedere Ragazzi È alto 1,78 Praticamente È alto Quanto me Questo è un altro discorso È un giocatore Estremamente rapido Un centravanti Esattamente come piace a me Questo qua ragazzi Potrebbe farci Letteralmente Innamorare Già vedo che porta La numero 10 Quindi È un giocatore Di una certa rilevanza Ha anche una buona elevazione Quindi Di testa Diciamo che non è Una pippa Vediamo un attimo Ok 19,8 28,6 Ma ragazzi Non lo so Se devo chiedere di più Rispetto a quanto vale O di meno Non lo so ragazzi Allora Io sicuramente Vado a trattare Vado a Partire Con 15 milioni Se le cose Fanno male Ricarichiamo il salvataggio E ci riproviamo Invece no ragazzi 15 milioni Sono una cifra Più che giusta Anche se la tensione È salita praticamente A metà Quindi Facciamo 16 milioni e mezzo Io se spendo Meno di 20 milioni Sono felicissimo 17,7 Chiudiamo Il 17 Vediamo Sì ragazzi Perfetto Adesso Lo stipendio Lo stipendio Lo sappiamo già Sappiamo che Prende 26 mila Euro a settimana Ovviamente Ragazzi Qua Stiamo andando A fare il super Colpo per la Bundesliga Il super centravanti Per fare una stagione Di un certo livello Perché Quante volte succede Soprattutto in Inghilterra Che la neopromossa Fa il super acquisto Il super attaccante Forte Per provare ad essere Protagonisti In qualche modo O comunque Per non affrontare Una stagione Di mestizia E sofferenza Comunque 5 anni di contratto Uno stipendio Che sinceramente Ci sta Ce lo prendiamo Dall'offena Quindi ci sta Prendersi un giovane Dall'altra squadra Della Germania Allora Il mio stipendio Che ti offro Sarà di 18 mila Con 180 mila A settimana Vediamo un po' Se è a bocca No Non a bocca Ma per nulla Allora a questo punto Facciamo così Voglio restare con 18 mila Però ti voglio Aumentare ovviamente Quel bonus Quindi ti do tipo 300 mila euro Dovrebbe andar bene La tensione è salita Di poco Ma non accetta E allora facciamo 19 con 350 Qua Tanto ragazzi Sinceramente I soldi ci sono Cioè È un mercato importante Questo qui Bisogna fare almeno Un colpo In un certo livello E probabilmente È arrivato Eccolo qui Fofana Vediamo un po' Che giocatore sarà Solita presentazione Questo qui Accolto ovviamente In un certo modo Deve fare coppia Con Durabil Quindi ci sta Che lo vada Che lo vada Ad accogliere proprio Durabil Comunque Ragazzi Saltiamo un attimo Qui Conate Perché ho detto Fofana Non lo so ragazzi Però Ovviamente Karim Conate Ottima trattativa A Valutazione 76 Perfetto ragazzi Esattamente Quello che Quello che Cercavo Un giocatore Che fosse Diciamo A livello Di Durabil Che potesse Essere forte Come lui Vediamolo subito Ragazzi Sono molto Molto Curioso Eccolo qui Un 76 Ottima promessa Ivoriano Quindi ragazzi Non è una cosa Così semplice Quindi ragazzi Proviamoci Ci sono Tanti campi Gioca Benesh Marino Bercaia Bamba In Mina Che fa il suo esordio Di Benedetto Rebi E occhio Di Benedetto Lo scatto Di Conate Vediamo un po' Se riesce subito A prendere la giusta intesa È passato Ragazzi Conate Ragazzi No Ecco qua Abbiamo trovato Il nostro bomber Per questa stagione Questo ci farà Tanto divertire E occhio ragazzi Mina Possiamo andare Mina Mina In aria Mina Non ci credo ragazzi Ho segnato anche Mina La giornata Dei nuovi acquisti Bene così Devo dire che Questo mi fa Pensare benissimo In vista di questa stagione Perché se vado a fare Due acquisti E subito Mi fanno Tre gol Praticamente Vuol dire che Ci ho visto giusto E ok ragazzi Termina anche Un primo tempo Scintillante A dir poco Da parte nostra 3 a 0 all'intervallo Ragazzi Conate Già che sono innamorato E oggi c'è ragazzi Mina Che si fa vedere Molto in avanti Vediamo un po' Per chiudere in bellezza Questa partita dopo Un secondo tempo Altrettanto dominato Ma Che Ci ha visti Senza gol Anche se abbiamo avuto Tantissime opportunità Comunque ragazzi Di Benedetto Prova a lottare Il tempo dovrebbe essere scaduto E arriva il fischio Dell'arbitra In questo caso 3 a 0 per noi Abbiamo fatto tutti i gol Nel primo tempo Come detto Anche nel secondo Abbiamo dominato abbastanza Ragazzi Siamo stati veramente bravi Oggi L'impatto Di Conate A dir poco Devastante Comunque ragazzi Allora arrivano I resoconti Degli altri attaccanti Giustamente Ben Seguir È un 77 Washington È un 73 Comunque Da tenere d'occhio Fofana Credo che ci sarà Tutto più chiaro Allora qui Che cavolo sei L'ipsia Ti va ad offrire 75 milioni Contro offerte Nessuna clausola 75 E si vola 75 milioni Rifiutati subito Ragazzi Ovviamente Come dico sempre Se sparo queste cifre Così Allucinanti È perché Ovviamente Sono giocatori Che non voglio vendere Quindi ragazzi Andiamo a vincere Questo per il campionato estivo Bisogna semplicemente Battere la serenitana Per uscire A portare a casa Il titolo Anche se abbiamo Tre squadre A sei punti Ma secondo me Visto che abbiamo fatto Più gol Ce la dobbiamo fare Ce la dovremmo fare Comunque Al mila B la fata serenitana Formazione Migliore possibile Per noi C'è la stessa formazione Che ha battuto L'Elce Nella prima partita Questa volta Sta fuori Conate Perché Deve allenarsi Per essere lucido Eccetera eccetera Quindi Ne ero perfettamente Consapevole Che avrebbe giocato Solamente Una partita Comunque Forza Momolu Non capisco Queste faccine Così Poco felici Comunque Vabbè Non ci facciamo caso E andiamo a chiudere In bellezza Faccio Durambil Possiamo andare Durambil Va a partire Durambil E un po' Ci sono Momolu e Bamba Dall'altra parte Durambil L'appoggio Per Momolu Che non può sbagliare Battuto Ciova 1-0 Siamo in vantaggio Bravissimo Momolu Che nonostante tutto Si conferma Essere Un grande bomber E occhio Però Che subiamo Il gol del pareggio Con Stewart Primo gol subito In questa coppa estiva Peccato Lo subiamo Proprio dalla serenitana Segna Stewart E purtroppo È il gol del pareggio Che non ci voleva Perché Abbiamo avuto Tante di quelle chance Per raddoppiare Ma veramente Ragazzi Momolu Si è mangiato Di tutto E comunque Ragazzi 1-1 all'intervallo Basta giocare Allo stesso modo Che secondo me Riusciremo a tornare In vantaggio Riusciremo a vincere Anche questa partita No vabbè ragazzi Cioè Non ci credo Ma che gol abbiamo subito 2-1 Serenitana Botiem C'è una palla Gli sbatte letteralmente Addosso Dai ragazzi Cioè Se devo perdere Il precampionato estivo All'ultima partita Con la serenitana Vi giuro che impazzisco Ragazzi Cioè adesso è una questione Di vita O di morte E tra l'altro ragazzi Una partita che stiamo Dominando Veramente Bamba Ha preso un palo Poco fa Adesso vediamo Momolu Che riesce a metterla dentro 2-2 Forza ragazzi Bravo Mbappé Che palla che recupera Mbappé Adesso ragazzi Sono entrato in clima partita Momolu Momolu Per la tripla Momolu Mamma mia Dove l'ha messa 3-2 Ci hanno fatti arrabbiare Grande Momolu Che si porta in palestra Pallone a casa Un destro veramente bellissimo Sinceramente Lo voglio anche riguardare Qua bravissimo Mbappé A servire l'assist Ottimo scatto Nel nostro attaccante Poi ragazzi Dove la va a mettere 3-2 Ho gioco qui Palla recuperata Il dragone Subito in avanti Per Bamba Di dimmi che non è fuorigioco È tutto buono Bamba la può appoggiare col sinistro E mettere il punto esclamativo Sulla partita Non esisteva Uscire sconfitti O non vincitori Da questa partita Andava vinta Ad ogni costo A parte Perché appunto Cioè perdere il precampionato Stivo veramente L'ultima partita Sarebbe stato assurdo Quindi Ci teneva veramente tanto Ci siamo applicati un attimo Ed è questo Quello che è successo Ecco ragazzi Sarei in Italia Che è proprio a chiudere in avanti A tempo apparentemente scaduto Scholes di testa Può liberare Occhio che non c'è Il portiere fra i pali Sonco Che poteva andare in porta L'abito fischio Alla fine della partita Fa niente Però Fosse stata Una partita diversa In un punteggio differente Sarei impazzito Comunque ragazzi Grande vittoria Del precampionato Come sempre non c'è nessun festeggiamento Non dando più l'importanza Che davano Che davano un tempo A questa competizione Però Adesso andremo un attimo A certificare il fatto Che effettivamente Siamo riusciti A vincere Questo torneo 2003 Effettivamente Era il budget Che avevamo anche visto Nella scorsa puntata E Con una durazione Per aver vinto Perfetto E per completezza Ce lo dice anche La classifica 9 punti A pari merito Con l'espanolo Ma abbiamo fatto più gol Quindi I campioni siamo noi Adesso ragazzi L'unica cosa che voglio fare È semplicemente Aspettare Che arrivino i resoconti Di giocatori Che mi interessano Avere un quadro completo E poi nella prossima puntata Fare una puntata intera Dove Andrò ad acquistare Tutti i giocatori Che ci mancano Che praticamente Sono due Però ragazzi È chiaro che Cercheremo di vedere Tutto Nella prossima puntata Qua comunque Continuo a rifiutare Offerte Per Bappé Che inizia a essere Molto richiesto Sicuramente Stiamo parlando Di un difensore Di un certo livello Non sono i giocatori Che mi interessano Qua Quindi nei suoi conti Comunque Offerta anche Per Belcaia Da parte dell'Anversa Ma per questa stagione Belcaia Vorrei mantenerlo Con me Vediamo precisamente Quanti giorni mancano Così Cerco di essere Più preciso Vediamo un attimo Sono tutti qua Quelli che mi interessano Allora A te ti abbiamo visto E non ci interessa Allora due giorni Praticamente Ok ragazzi Perfetto Manca pochissimo Nel frattempo però Arriva una bella offerta Del Francoforte Che continua a chiederci I nostri giocatori Offerta per Chiarodia Questa volta Chiarodia ragazzi È un giocatore Molto ma molto interessante È un 75 Non vado a chiedere Cifre allucinanti Tipo 30 milioni Però 25 milioni Secondo me È comunque Una cifre estremamente alta Che però voglio chiedere Vediamo un po' 25 milioni Che sono effettivamente Troppi Riproviamo Di nuovo 25 Ma giusto per far saltare Ragazzi Alla fine anche Chiarodia è un giocatore Che non voglio vendere E infatti Facciamo saltare Tutto Comunque ragazzi Eccoci qua Finalmente ci siamo Anche un doppio aggiornamento Dell'osservatore Sempre molto importante Perché Un'altra cosa Che è molto importante Quest'anno Sarebbe proprio Il puntare Sui giovani Dovrei avere Conservatori Ottimi Perché nella Scorsa stagione Mi sembra Di averne presi Almeno due Adesso vado anche a controllare Però Ecco Cerchiamo di Scovare Qualche Hidden gem Diciamo Ho sbagliato Ne ho assunto uno Non volevo Ne ho ingaggiato uno Comunque ragazzi Ok Tutti resoconti Ci siamo Allora Jarek è un 70 Perfetto Mio più Qui Bellissimo Il nome È un 67 Mugniz Mugniz Che mi ispira molto È un 71 Matturo Purtroppo è prestato È un 71 Lui era perfetto Wattara È un 71 La Mosca Zezze È un 70 Molto bene Ma qui sta È un 70 Devo dire ragazzi Che ho centrato benissimo Gli acquisti Lui solo ragazzi È solamente un 71 Molto bene Borza invece È già un 73 Ok ragazzi Perfetto Ci sarà tanto Da discutere Nella prossima puntata Però direi che per oggi Possiamo fermarci qua Come detto Vedremo tutti i giocatori Cercheremo di chiudere Il calciomercato Nella prossima puntata E poi se vedrò Che avanzerà a tempo Sicuramente andrò Ad affrontarmi Anche l'esordio In Bundesliga Contro il Friburgo Quindi ragazzi Direi che è stata Un'ottima puntata Anche oggi Abbiamo visto Delle cose Molto importanti Soprattutto è arrivato Con a te Quindi fatemi piazzare Anche la formazione Comunque E dei titolari Che è importante Tenerla sempre qua Fissa Cercchen è il capitano Ok perfetto Quindi ragazzi Vi stavo salutando Vi continuo a salutare Come sempre vi invito A lasciare un mi piace Iscrivervi al canale A seguirmi sulla pagina Instagram A sostenere il canale Tramato un abbonamento E ad una donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima